Senti, se qualcuno si aspettava una squadra in disarmo in queste ultime partite oggi avete risposto alla grande. Ma no, è giusto per i tifosi, è giusto per noi, per il movimento e per tutto quello che vi possa venire in mente chiudere la stagione dando il massimo perché è segno di serietà, è segno di professionismo. Ma siccome noi ci ripetiamo tali abbiamo cercato di onorare il più possibile il campionato, ce ne manca solo una partita e daremo il massimo anche lì. Oggi avete giocato alla grande per 2-7 e anche nel secondo avete dimostrato di saper lottare fino a l'ultimo. Sì, ti ripeto, ci siamo detti e promessi di dare il massimo, l'abbiamo fatto tante volte e non sempre ci siamo riusciti. Oggi siamo riusciti e sono doppiamente contento.